Il Senato ha appena approvato la legge sulla mobilità ciclistica, è stata ribattezzata subito legge de caro perché la proposta lei quando era parlamentare, che cosa cambierà con questa normativa in Italia? Questo paese diventa un paese più a misura di ciclista, un paese nel momento in cui si realizzerà una strada sarà obbligatorio costruire a fianco una pista ciclabile, un'infrastruttura ciclabile, avremo l'obbligo di realizzare quando si costruiranno edifici per civili abitazioni o per attività a servizi, attività economiche, ci sarà l'obbligo di realizzare gli spazi per parcheggiare le automobili ma anche gli spazi per parcheggiare le biciclette. Veniamo a Bari, la città del papà della legge, quali sono le prossime piste ciclabili da realizzare? Le prossime piste ciclabili sono la pista del lungomare, quindi la prosecuzione della pista dove siamo adesso che si collegherà con piazza Isabella d'Arogone, e contemporaneamente l'altra pista che oggi è ferma a piazza Garibaldi raggiungerà piazza Isabella d'Aragona. Poi c'è la pista ciclabile di via Mendola, un esempio di come la realizzazione di una strada nuova, l'ampliamento di una strada da due a quattro corsie porterà anche alla realizzazione di una pista bidirezionale con una larghezza di due chilometri e mezzo. Sarà realizzata la pista ciclabile sulla strada di Madre Teresa di Calcutta, nella zona di Poggio Franco. Sono i prossimi chilometri di pista che si aggiungono a quelli che abbiamo realizzato in questi anni. Quindi ha detto ogni nuova strada ha una pista ciclabile. A Bari in parte lo avete già cominciato a fare, il ponte dell'asse nord-sud ha una pista ciclabile, però è ancora chiusa. Come mai ci vuole così tanto tempo per progettare barriere di sicurezza? In realtà lì la pista potevamo già aprirla al transito dei ciclisti, però giustamente l'assessore e il tecnico comunale quando sono stati completati i lavori si sono posti il problema di aumentare la sicurezza. Per legge potevamo già utilizzarla, però ci siamo inventati una nuova struttura metallica di protezione della barriera metallica del ponte per permettere di transitare su quella pista ciclabile con maggiore sicurezza. Ovviamente siccome viene modificata una barriera metallica che è prevista dal codice della strada e che è soggetta a delle norme nazionali, bisogna fare il collaudo della nuova struttura metallica. Quindi è stato fatto un progetto ad hoc da parte di un esperto di barriere metalliche e sarà brevettata. Quindi quella modifica sulla barriera potrà essere utilizzata in tutte le altre parti d'Italia proprio come protezione per i ciclisti. Da un lato le infrastrutture e dall'altro ci sono anche le abitudini dei baresi che forse non sono abituati a vedere biciclette in circolazione. Sulla pista di Corso Mazzini camminano motorini, pedoni, insomma non si rendono conto dei ciclisti. Pian piano ci dobbiamo abituare, i ciclisti erano pochi. Qualche anno fa quando facevo l'assessore ricordo di aver realizzato la prima pista ciclabile della città sul Viare della Repubblica e via Unità d'Italia. Sono passati tanti anni, oggi la bici la utilizzano in tanti, ci sono però tanti automobilisti indisciplinati che magari bloccano le piste ciclabili alle intersezioni o c'è qualcuno che addirittura quando la pista è larga 2,50 metri utilizza l'automobile per poterci parcheggiare all'interno. Però le cose pian piano per fortuna stanno cambiando e questa città diventa sempre di più una città amica dei ciclisti. Qualche multa in più per gli indisciplinati? Sicuramente, soprattutto in alcune zone come per esempio la zona di Corso Mazzini dove le automobili si fermano sulle strisce pedonali, sulle intersezioni. Ci sono altre zone invece dove c'è più rispetto per l'infrastruttura ciclabile. Il prossimo obiettivo sarà non quello di realizzare le piste ma nella zona centrale di realizzare interventi di moderazione del traffico, cioè la coesistenza delle automobili con le piste ciclabili rallentando il traffico veicolare attraverso la riduzione della carreggiata stradale e l'ampliamento come stiamo facendo per esempio nella zona di Via Mero l'ampliamento attraverso i bull boat degli incroci stradali. Lì ci sarà la possibilità dell'uso promiscuo delle corsie stradali sia per gli automobili che per le biciclette.